Allora, oggi nella prima ora iniziamo un esercizio che è quello che vi ho condiviso su Telegram ieri sera per esercitarci un pochino sui temi delle stringhe, dei condizionali, eccetera. Iniziamo a fare un programmino che poi magari riprenderemo più avanti quando sapremo fare altre cose per giocare a briscola. Non so se tutti voi conoscete il gioco. Diciamo che, riassumendo, noi vogliamo scrivere un programma che date due carte del giocatore 1 e di un giocatore 2 che sono state giocate, dica quale di due giocatori ha vinto la mano. Seguendo le regole della briscola che dicono che c'è un seme, appunto chiamato il seme di briscola, che vince sugli altri semi, mentre invece per quanto riguarda tutti gli altri semi, diciamo così, sono ugualmente importanti. Per rappresentare questo nel programma scegliamo di, poi riprendiamo bene la regola, scegliamo di rappresentare le carte con una codifica sotto forma di stringa, ad esempio 2F rappresenterà, opps, rappresenterà nella nostra codifica il 2 di fiori, 3P il 3 di picche, e più in generale il testo ci dice che ogni carta è rappresentata da un valore e da un seme. Il seme può essere cuori, quadri, fiori e picche, il valore può essere asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jack, donna e re. Quindi Kc è il re di cuori, ad esempio. Prima rappresentiamo una carta, una stringa di due caratteri, il primo carattere rappresenta il valore e deve essere uno di questi indicato, completo tra i seguenti, mentre invece la seconda lettera rappresenta il seme, che deve essere uno di quei quattro sopra. Quindi come, quali sono le regole del gioco? Le regole del gioco dicono, guarda, hai un seme che è il seme di briscola e hai due carte. Quale di queste due carte vince? Allora, le regole dice che una carta con il seme di briscola vince sempre su una carta con un seme diverso, tra due carte con lo stesso seme vince quella di valore maggiore, tra due carte di seme diverso vince sempre la prima, a meno che la seconda non sia di briscola. Quindi ad esempio, in questa partita ad esempio, c'era briscola a cuori, io ho giocato un due di fiori, per vincere su un due di fiori, ammesso che uno se lo voglia vincere perché porta a zero punti, posso mettere una carta di fiori più grande oppure una carta di cuori che è a briscola, qualsiasi. Il giocatore 2 invece ha messo una carta di picche e, diciamo così, ha perso, no? Ha vinto la carta 2 di fiori, perché in questo caso essendo i seme diversi vale la prima. Tra l'altro è stato un po' pirla perché ha messo un 3 che vale 10 punti e l'ha regalato all'altro, ma la pirlitudine non è misurata dal programma. Quindi questo in estrema sintesi. Le regole del gioco ci riassumono anche quanti punti valgono le singole carte, però in realtà i punteggi al fine di questo programmino che faremo oggi non ci servono. A noi serve solamente sapere quale carta vince. Poi alla fine, quando avrai finito la partita, conterai i punti e allora vale ovviamente questa informazione. Qui ci sono un po' di esempi che dice, sempre supponendo che la briscola sia a cuori, che è il primo dato che viene inserito, su un 6 di fiori, un fante di fiori vince perché hanno lo stesso seme e il fante è maggiore del 6. 6 di fiori, fante di picche vince 6 di fiori perché i semi sono diversi e il secondo non è briscola. 6 di fiori, 2 di cuori, vince 2 di cuori perché è briscola e quindi vince ovviamente su qualunque altro seme che non sia il suo stesso briscola. 2 di cuori, asso di picche, vince il 2 di cuori per due motivi, 1 perché è briscola e 2 perché i semi sono diversi e quindi vince la prima carta. E l'ultima possibilità è un fante di cuori, cioè di briscola, con un 3 di briscola vince il 3 perché il 3 ha più punti rispetto al fante. Il fante vale 2 punti, il 3 vale 10 punti. Ok? Quindi questi sono alcuni esempi di che cosa vi dice il programma. Allora, no? Vi quadra? Allora, cosa dovremmo fare? Dovremmo acquisire i dati, seguendo l'esempio che ci viene dato e poi fare una serie di controlli che ci permettono di decidere chi ha vinto. Controlli che dipendono dai semi, che dipendono dai valori, eccetera, eccetera. No, quindi seguendo le regole del gioco. Quindi la parte principale, fatemi creare un nuovo file. Viscola.python La parte iniziale Siamo un pochino, caratteri un pochino più grandi, così riusciamo a vederli. La parte iniziale sarà ovviamente l'acquisizione dei dati. Poi, eventualmente, possiamo fare un controllo di validità dei dati. Se uno mi scrive set L, dove L non è nessun seme, perché allora questo è un dato errato, quindi dovrei eventualmente controllare che il dato sia corretto, anche se il testo in un paio di passaggi ci dice ci dice si assuma che il valore inserito sia sempre corretto. Quindi ci sta un pochino dicendo non è il caso di fare i controlli, concentrati sul resto, concentrati sull'algoritmo di Vittoria. Dopodiché dobbiamo controllare i vari casi. Quindi controlla chi ha vinto. Qui è facile da scrivere. Controlla chi ha vinto e stampalo. Ovviamente la parte logica del programma sarà lì dentro. Dimmi. Il secondo turno dice 6 di fiori, perché il giocatore 2 ha giocato una carta di picche, essendo un seme diverso non vince. Cioè, su un 6 di fiori tu devi giocare una carta di fiori maggiore. Prego. Allora, l'acquisizione dei dati, noi dobbiamo prendere tre variabili. tre valori, che possiamo chiamare, beh, il primo valore, ce lo dà l'esempio, chiaramente è il seme della briscola. Allora, copiamo cosa ci dice il testo di chiedere, inserisci il seme, diciamolo della briscola. Poi chiedo le due carte all'utente. quindi carta 1, gli chiediamo all'utente, vediamo il messaggio, così lo copiamo, inserisci la prima carta e ovviamente input, inserisci la seconda carta. ok. E vediamo se funziona, dovrebbe inserisci il seme di briscola cuori, inserisci la prima carta due di fiori, tre di picche e poi non fa nulla ovviamente, però chiede questi dati. io adesso sono inseriti correttamente, sappiamo che il programma dovrebbe controllare la validità dei dati e qui potremmo sbizzarrirci a capire quali controlli fare, no? Possiamo ipotizzare che il seme, lo metto solo come commento, sia un solo carattere tra i quattro permessi. Sembra che sia una lettera sola, ma non una lettera qualunque, una lettera delle quattro C, Q, F, P. Poiché invece la carta 1 e carta 2 siano di due caratteri, il primo un valore valido, il secondo un seme valido. E vabbè. Ci fa già però pensare che da qualche parte dobbiamo sapere quali sono i valori validi, da qualche parte dobbiamo sapere quali sono i semi validi. Io potrei, poi ci contenziamo sull'algoritmo, ma ragioniamo su questo. Questo controllo potrebbe essere se la lunghezza di seme briscola diverso da 1 oppure non è uno dei quattro quindi siamo uguali a 1 se la lunghezza del seme briscola è 1 e il seme è è cuori oppure il seme è fiori oppure il seme è quadri oppure il seme è quello che mi manca picche allora posso andare avanti col programma vai avanti 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 altrimenti errore potremmo fare una cosa di questo genere ovviamente il resto del programma va a finire questo dentro va avanti se vado avanti vuol dire che vado a controllare le altre carte eccetera eccetera poi qua c'è un errore che vediamo insieme c'è una domanda? Sì diciamo per indicare la parte dell'internet se si 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 ma non così allora qui ci sono due problemi uno lui dice ma è lungo è noioso sì lo so adesso vediamo in modo migliore l'altro è attenzione che questa istruzione non fa quello che pensiamo perché qui stiamo combinando degli and e degli or però la precedenza degli operatori and è come se mettessimo maggiore come la moltiplicazione che la precedenza sulla somma e quindi viene interpretato in questo modo come se avessi delle parentesi messe qua quindi di fatto va a dire se la lunghezza è 1 e il seme è c va bene oppure se il seme è f ma indipendentemente dalla lunghezza adesso poi per carità questo è un dettaglio perché se è apice f è apice per forza lungo 1 però facciamo attenzione che noi nel nostro ragionamento abbiamo detto beh devono verificarsi due cose la lunghezza deve essere 1 e il seme deve essere 1 di quelli permessi allora per descrivere che il seme debba essere 1 di quelli permessi ho fatto un or di 4 condizioni possibili ma nella mia testa questi or erano tutt'uno peccato che è rimasto nella mia testa perché per farlo arrivare anche al codice dovrei mettere le parentesi intorno ai 4 or quindi questo è un primo problema facciamo attenzione che quando abbiamo delle condizioni logiche complesse di essere sicuri di esplicitare l'ordine con cui vogliamo fare l'operazione altrimenti poi la condizione viene controllata non è quella che pensavamo ok questa è la prima cosa il vostro compagno dice ma questo è lungo lo posso abbreviare e lui ha proposto di abbreviarlo così non funziona anche se si legge bene a parole diremo il semibriscolo è una c oppure una f oppure una q oppure una p in realtà questo invece sta facendo una cosa completamente diversa sta dicendo è l'or di quattro condizioni la prima condizione è vera se il semibriscolo è c ok può essere o non essere la seconda condizione f è vera se la stringa f ha un valore di verità vero cosa succede qua lui prende il valore di stringa f lo converte in un booleano con delle regole che se vogliamo possiamo scoprirci e va a vedere se questo booleano è vero oppure falso noi lo possiamo fare aprendo per capire cosa succede f è chiaramente una stringa in un contesto booleano la stringa f viene considerata vera or ha bisogno di operatori di argomenti che siano booleani quando si trova gli argomenti che sono numeri o stringhe cerca di convertirli in booleano e tutte le stringhe si mappano su true anche la stringa false per dire è un booleano vero l'unica stringa che verrebbe interpretata come un booleano falso è la stringa vuota quindi ciò che stiamo scrivendo qui che non è quello che pensavamo è questa condizione è vera se il semilibrisco effettivamente è la stringa oppure se f non è la stringa vuota e che è sempre vero non è la stringa vuota oppure se q non è la stringa vuota oppure se p non è la stringa vuota questo è ciò che abbiamo scritto chiaramente questa condizione qua è sempre vera perché tre di queste quattro sono vere per definizione è come se avessimo scritto vero 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 perché è una costante che confrontiamo con la stringa vuota quindi facciamo attenzione che la sintassi no? dobbiamo sempre utilizzare quella corretta e non prendere scorciatoie che purtroppo questo non ci dà neanche un errore di compilazione perché ha senso lo posso scrivere sto implicitamente prendendo una stringa e chiedendo è un modo scrivere il nome di una stringa è un modo per chiedersi questa stringa è vuota o no? if stringa due punti è un'abbreviazione per dire if stringa è la stringa vuota anzi è diversa è la stringa vuota oppure è come dire if lendi stringa maggiore di uno questo si può abbreviare chiamandolo if stringa che automaticamente lui prende la stringa e la converte in booleano secondo questa regola qua se è vuota è falso qualunque altra cosa è vero quindi facciamo attenzione a queste trappole però c'è un modo ci sarà un modo di confrontare no? se un seme è uno di queste quattro lettere e questo però l'abbiamo già visto quando abbiamo visto le varie funzioni sulle stringhe abbiamo visto che c'era il modo di controllare se una stringa era contenuta dentro un'altra stringa no? ad esempio usando in no? allora noi potremmo dire che la lunghezza del seme briscola deve essere una e il carattere del seme briscola deve essere uno di questi quattro in cuori quadri fiori picche come fa una stringa di un carattere ed è di un carattere perché l'abbiamo appena verificato essere contenuta all'interno di quest'altra stringa ebbè solo se è uno di questi quattro lì ok? o punto includes ci sono altri modi però più breve a in quindi questa stringa qua da sola cioè non ha nessun significato per sé ma è un modo comodo per me di rappresentare quelli che sono i quattro semi permessi e a maggior ragione per pigrizia mia visto che probabilmente lo faremo anche più avanti ci servirà anche più avanti questo stesso controllo perché lo dovremmo fare anche sulla carta 1 e sulla carta 2 no? allora per evitare di ripetere questa cosa qua ogni volta andiamo a definire delle costanti semi uguale cuori quadri fiori picche e a questo punto possiamo anche mettere i valori faremo dei controlli analoghi i valori quali sono asso 2 3 4 5 6 7 fante donna re quindi a questo punto per controllare se una carta è valida allora posso andare a controllare se la carta è valida scrivendo cosa length di carta uguale 1 2 quadri uguale 2 e il primo carattere è in valori e il secondo carattere è in seme adesso prima di scrivere questo adesso lo scriviamo è comodo scrivere la condizione diciamo così per cui questa cosa è vera ma diventa scomodo poi gestirlo all'interno del programma perché immaginate qua io ho controllato il seme di briscola poi se devo controllare la carta 1 devo qua scrivere if carta 1 e le sue cose se la carta 1 è a posto allora vai avanti ma vai avanti vuol dire controllare se la carta 2 è a posto eccetera e quindi il programma principale me lo devo scrivere indentato dentro tre livelli di if come minimo che è un po' scomodo mentre poi avrò una catena di else che stampa i messaggi di errore questo perché perché con la if sono andato a intercettare il caso buono il caso in cui i dati siano validi però in questo esempio conviene invece fare il contrario se io vado a intercettare il caso in cui il dato non è valido io mi trovo negli if iniziali in una serie di sbarramenti che mi dicono errore errore e poi se il programma va avanti da un certo punto in avanti può continuare a fare la parte principale che posso mettere sotto e non avermela rientrata non trovarmela rientrata di tre quattro livelli quindi spesso conviene quando andiamo controllare dei dati degli errori la coerenza dei dati non controllare se il dato è buono allora faccio le cose che devo fare ma se il dato non è buono mi fermo quindi normalmente è più comodo invertire questa condizione condizione e qual è il contrario di questa condizione? e il contrario di questa condizione è diverso or not in il contrario è che la lunghezza sia uno e sia uno di questi caratteri il contrario è o la lunghezza non è uno e questo mi basta per buttarla via oppure non è uno di questi quattro caratteri e mi basta per buttarlo via quindi quando io vado a negare una affermazione io trasformo l'uguale in diverso l'ing in not in quindi inverto tutti gli operatori di confronto ma devo anche invertire gli end con gli or perché mentre prima per essere buono tutte le clausole dovevano essere soddisfatte sotto per essere sbagliato almeno una clausola può non essere soddisfatta per dirmi che non va bene se non voglio fare questo lavoro qui di invertire a mano diciamo così l'espressione posso farlo fare a lui con un not davanti a tutto se non è vero not che la stringa è giusta allora sarà sbagliata quindi è uguale dipende un po' come vi trovate in termini di facilità di lettura e decodifica dopodiché al di là di questo partiamo con l'ultima solo perché è sotto qua sotto allora vuol dire che se c'è qualche cosa che non va bene scrivo che è il seme della carta non valido seme della briscola e poi vado a fare gli altri controlli a questo punto a questo punto dirò se la carta 1 allora cosa c'è che deve essere usiamo la formula con not trovo un errore se non è vero che la carta 1 è valida cosa deve fare la carta 1 per essere valida? beh innanzitutto che la lunghezza sia 2 e il valore deve essere un valore valido e cos'è il valore? è il primo carattere di carta 1 in valori and carta 1 di 1 che è il secondo carattere dove contiene il seme in semi se non è vero questo dovrò dire che la carta 1 non è valida e poi lo stesso identico gioco sulla carta 2 possiamo immaginarci e qua è di solito dove si sbaglia quando uno fa copie e incolla e correggi a semi devo scrivere il maiuscolo scusate avevamo usato il maiuscolo per ricordarci che è una costante questa di comodo carta 2 no? allora a questo punto abbiamo messo una serie di controlli e se tutti questi controlli sono positivi cioè non attivo la stampa dell'errore allora vuol dire che ho delle variabili corrette valide e devo fare il lavoro altrimenti stamperò un messaggio di errore ad esempio se io inserisco come seme della briscola R che non esiste la prima carta un 3T e la seconda carta un asterisco F mi dirà ovviamente che il seme della briscola non è valido perché la R non è un seme valido la carta 1 dice che non è valida il 3 in realtà è valido ma il T non vale come seme la carta 2 non è valida invece per motivo diverso che asterisco non è un valore valido anche se F sarebbe un seme valido possiamo verificare che invece se inserisco dei valori giusti non mi stampa nessun messaggio d'errore quindi cuore 2 di fiori 3 di picche non mi stampa nessun messaggio d'errore attenzione che se io scrivo cuore 2 di fiori e 3 di picche così con le lettere minuscole non le prende perché dal testo ci dice che cuore si scrive con la C maiuscola se noi volessimo considerare anche la C minuscola per rendere il programma più facile all'utente cosa potremmo fare? potremmo mettere un upper alla stringa allora qualcuno potrebbe pensare di fare così no scusate non qua cioè io vado a vedere non se seme briscola è una di queste 4 ma se seme briscola punto upper cioè la versione in maiuscolo è una di queste 4 quindi che sia minuscolo viene convertito in maiuscolo se fosse già maiuscolo rimane tale e vado a vedere se è in questi 4 elementi però se lo faccio qua lo devo fare in tutti i punti in cui uso seme briscola quindi tanto vale secondo me anziché fare la conversione da minuscolo a maiuscolo quando vado a fare i controlli io la farei direttamente quando vado a leggere i dati cioè faccio l'input e prima di memorizzare il valore dell'input dentro la variabile seme briscola la converto in maiuscolo così il minuscolo non lo vedrò mai applico il metodo upper al risultato della input che è la stringa che è stata inserita dimmi allora lui chiede potremmo per evitare questa cosa qua potremmo fare aggiungere tra i caratteri validi anche i corrispondenti minuscoli sì dopodiché tra un attimo dobbiamo chiederci se il seme della carta 1 è uguale al seme di briscola e avrò quattro casi possibili se tengo valide sia le maiuscole che le minuscole perché magari sono entrambi maiuscole entrambi minuscole o una maiuscola altra minuscola quindi al fine di questo controllo qui non è CFP ma deve essere semi al fine di questo controllo va benissimo buttarci dentro sia le maiuscole che le minuscole ed è equivalente però per il resto del programma portarsi dietro sempre le due versioni ci complicherà un po' la vita si può fare però mi sembra più semplice normalizzare diciamo così il dato ricevuto mettiamo tutto in maiuscolo o tutto in minuscolo la scelta nostra e ci togliamo un problema poi a questo punto dobbiamo controllare chi ha vinto allora proviamo a vedere se riusciamo a applicare le regole che sono descritte nel testo le regole sono una carta con il semi di briscola vince sempre su una carta di semi diverso quindi se la carta 1 ha semi di briscola e la carta 2 no vince la carta 1 e viceversa se la carta 2 ha semi di briscola e la carta 1 no vince la carta 2 proviamo a scriverlo facciamo prima ci confondiamo meno a scriverlo che a non a dire la parola quindi se quindi caso 1 briscola versus non briscola quindi if la carta 1 è di briscola quindi carta 1 il seme è il secondo carattere la carta 1 di 1 è seme di briscola e il seme della carta 2 carta 2 di 1 non è il seme di briscola allora vince la carta 1 1 ha giocato briscola 2 ha giocato non briscola vince 1 infatti mi sono scrivendo print carta 1 poi ci mettiamo le frasette dopo e questo è un caso poi sempre nella regola 1 che è dichiarata dal testo una carta con semi di briscola può essere la prima o può essere la seconda quindi andiamo a valutare anche la regola inversa la casistica inversa quindi abbiamo caso facciamo un else if e valutiamo il caso contrario quindi quello in cui la stessa cosa in cui però questa volta la carta 1 non ha seme di briscola quindi è un seme diverso da quello di briscola mentre la 2 si allora fatemi così fatemi spostare il commento dentro qui siamo nel caso 2 quindi caso 2 non briscola versus briscola print carta 2 altrimenti quindi qui abbiamo esaminato due casi in cui ci bastava guardare il seme poi c'è anche un altro caso in cui ci basta guardare il seme cioè quando i semi sono diversi tra due carte che sarebbe il terzo punto tra due carte di semi diverso vince sempre la prima a meno che la seconda non sia briscola ma il fatto che la seconda sia briscola l'abbiamo già verificato era già in nostro caso 2 quindi quindi se io dico che i due semi sono diversi quindi seme della carta 1 è diverso dal seme carta 2 di 1 del seme della carta 1 allora sono nel caso 3 che hanno semi diversi attenzione hanno semi diversi e posso giurare che la carta 2 non è una briscola perché se la carta 2 fosse una briscola e i semi fossero diversi sarei di sicuro caduto in questo caso nel caso 2 una serie di if che avvengono uno dopo l'altro vado a quello successivo solo se quello precedente non era verificato quindi qua potrei anche scrivere no se fossi paranoico scriverei and il seme della carta 2 non è briscola ma non serve a nulla quell'and lì è garantito dal fatto che il mio programma è arrivato fino a questo punto senza entrare nelle if precedenti ogni volta che c'ho un else if o un else vivo in una versione dell'universo in cui la parte quella condizione che c'era nella if di sicuro non si è verificata e quindi posso darla per scontato come assioma qui dentro quindi non è necessario allora se sono semidiversi dice la regola che vince la carta 1 a questo punto abbiamo forse tolto di mezzo tutti i casi più facili e siamo rimasti con il caso rognoso che è quello in cui cosa è successo? i due semi sono uguali cioè tutti i casi in cui i semi fossero diversi uno i due di briscola l'altro no oppure entrambi non di briscola li abbiamo già verificati ci è rimasto il caso lo metto con un ramo es così caso 4 semi uguali e che può voler dire entrambi briscola o entrambi no ma uguali allora in entrambi i casi ciò che devo fare è confrontare il valore della carta quindi devo vedere se fatemelo scrivere così anche se è sbagliato if valore di carta 1 0 è maggiore di valore di carta 2 di 0 allora a questo punto i semi l'elemento 1 della stringa non mi servono più vado solamente a vedere i due valori e a questo punto vado a vedere quali i due più grande chiaramente qua ho scritto valore di che non esiste come funzioni proviamo a farci qualche esempio sotto se io ho un 4 e un 6 attenzione non ho un numero 4 e un numero 6 ho una stringa 4 e una stringa 6 chi deve vincere? il 6 se io andassi dove ce l'ho il terminale scusatemi qua se io vado a vedere se 4 è minore come avevo scritto maggiore maggiore è maggiore di 6 mi dice di no quindi in questo caso specifico potrei confrontare direttamente le due stringhe e mi dice che la stringa 4 non è maggiore quindi sarà minore però attenzione che se io faccio 4 maggiore di 3 lui mi dice sì la stringa 4 è maggiore della stringa 3 peccato che nella briscola il 3 vale 10 punti il 4 non vale niente quindi deve vincere il 3 sul 4 e peggio ancora sul jack sulle figure in questo caso mi è andata bene perché mi dice che 4 non vince su un jack ed è vero vince il jack in questo caso e però la donna sul re cosa succede mi dice che la donna vince sul re perché mi dice che la donna vince sul re perché alfabeticamente q viene dopo a k il fatto che la donna vinca sul fante è puro culo perché q viene dopo la j e l'asso e l'asso poverino l'asso che vince sicuramente sul re alfabeticamente sembrerebbe che perde allora cosa vuol dire vuol dire ma questo lo sapravamo già che non possiamo brutalmente confrontare due stringhe e sperare che lui capisca qual è la scala dei valori e allora come facciamo cioè noi dobbiamo confrontare queste cose qui e decidere quale delle due meglio dell'altra avendo dei casi particolari cioè se io vado a vedere i valori che ho scritto qua ci sono certi numeri che vanno in fila 2 4 5 6 7 li potrei tenere in fila poi ho il 3 che invece devo gestire a parte le figure che devo gestire a parte e lasso che devo gestire a parte quindi saltano fuori tanti casi particolari cerchiamo di non di non cadere dentro 27 casi particolari se riusciamo le regole del gioco cosa si dicono ci dicono che hanno dei punteggi allora io potrei fare in modo di dire ok allora se vedo a non confronto più la a con la k ma per ogni seme vado a calcolarmi il suo punteggio quindi la a la trasformo in 11 il 3 lo trasformo in 10 j k e q lo trasformo in 2 3 4 sono numeri a questo punto posso fare il confronto tra i numeri sì ma no sì ma no non mi basta perché non mi basta perché 2 4 5 6 7 valgono tutti i 0 punti valgono tutti i 0 punti ma hanno un ordinamento cioè il 6 vince sul 4 i punti dati dal 6 sono 0 i punti dati dal 4 sono 0 ma vince quindi nel caso di tutte le altre carte posso fare il giochino di dire prendo la carta la trasformo in punti e confronto i punti nel caso invece di queste 5 carte qua dove il punteggio è 0 dovrò avere una clausola in più che se entrambi sono 0 vado a confrontare il numero e abbiamo visto che già il numero funziona perché il 3 l'avremo già escluso può andare devo inventarmi devo avere ad esempio una variabile in cui vado a calcolare i punti della carta 1 punti 1 come la calcolo? vado a fare una serie di controlli ad esempio questa if è puramente di fantasia quindi lo dobbiamo togliere però vado a vedere calcolare i punti punti della carta 1 calcolo i punti di carta 1 come faccio? beh vado a fare una serie di controlli se carta 1 di 0 è un asso punti 1 diventa diventa lo metto a 11 altrimenti se carta 1 di 0 fosse un 3 allora cosa c'è che non ti piace? si attaccato scusate no ma va bene elif scusate mi arrivo javascript si scrive staccato però anche va bene allora altrimenti se è un 3 allora i punti della carta 1 sono 10 altrimenti se fosse e so che è noioso un jack allora punti 1 uguale 2 se invece è una donna i punti sono 3 se invece è un re i punti sono 4 capite perché non mi sono voluto portare lettere minuscole dietro da prima perché ognuno di questi altrimenti l'avrei dovuto raddoppiare esatto esatto quella è un'altra soluzione fammi fare prima questa poi la vediamo allora questo è un modo calcolo punti 1 poi lo rifaccio uguale per la carta 2 e vabbè devo farlo coppia e colla e modifica tutti gli 1 in 2 e poi alla fine il cuore quale sarà avendo calcolato i punti vado a vedere se punti 1 è maggiore di punti 2 ha vinto la carta 1 carta 1 se punti 1 è minore di punti 2 carta 2 altrimenti 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 sono uguali i due punteggi ok e quando possono capitare che siano uguali i due punteggi quando sono entrambi 0 non possono essere entrambi 10 non possono avere due carte dello stesso valore e dello stesso seme ricordiamoci che siamo in una casistica in cui le carte sono dello stesso seme quindi in questo caso specifico l'unica combinazione in cui i punteggi sono uguali è quando sono entrambi 0 e allora vado a vedere il valore quindi vado a controllare se a questo punto carta 1 di 0 è maggiore di carta 2 di 0 allora la carta 1 ha vinto altrimenti ha vinto la carta 2 qui sto facendo occhio il controllo dei numeri 2 4 5 6 7 come stringhe e so che funziona perché abbiamo visto prima mettiamo qua dopo l'ess se arrivo qua punti 1 uguale punti 2 uguale 0 di sicuro questo dovrebbe funzionare per vedere se funziona dobbiamo calcolare anche il punti 2 fare il copia e incolla magari lo facciamo e poi ci chiediamo se c'era un altro modo di farlo fatemi fare questo copia e incolla copia e incolla è facile dopo che hai fatto incolla che devi andare a prendere uno per uno gli 1 far diventare 2 facendo attenzione di farlo solo nei punti giusti poi per carità potremmo anche evitarci questa cosa dicendo per gli altri punteggi numerici anziché metterle 0 le possiamo mettere a non so il valore della carta diviso 10 quindi verrebbero 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 che sono sempre minore del 2 del jack ma a questo punto ho numeri che confronto con numeri è un truschino ma funziona vediamo un po' per ora se questo funziona finora e poi lo commentiamo allora abbiamo detto io metto briscola cuori 2 di fiori 3 di picche chi vince 2 di fiori perché? perché i semi sono diversi ok bene rifaccio sempre cuori 2 di fiori e 3 di fiori questa volta dovrebbe vincere il 3 perché vale di più ma vale di più perché è un numero 3 che è più grande il numero 2 allora proviamo con un'altra cosa proviamo a inserire a briscola cuori un re di fiori con un 3 di fiori dovrebbe vincere il 3 e infatti vince il 3 se però ci mettiamo una briscolina il re di fiori con una schifezzuola cioè un 2 ma di briscola no sbagliato scrivelo scusatemi cuori abbiamo detto re di fiori 2 di briscola vince il 2 di briscola quindi facendo un po' di prove sembra che e nel fare le prove devo immaginarmi tutti gli if che ho fatto e essere sicuro di passare da tutti non dimenticarmi di testarne qualcuno allora c'erano un po' di osservazioni sparse forse una qua ok allora lui dice giustamente che qua stiamo facendo un'ipotesi questo di sicuro qua si basa sul fatto che le due carte carta 1 e carta 2 non siano identiche in un mazzo non capita qui perché poiché non stiamo estraendo dal mazzo e lo stiamo acquisendo dalla tastiera si possiamo aggiungere if carta 1 fosse uguale a carta 2 allora carta identiche ok allora io qua su questo prendo spunto sul fatto che abbiamo dovuto prendere questo e riportarlo un'altra volta uguale ma modificato quando il nostro pensiero inizialmente era stato questo valore di carta 0 ok noi abbiamo detto ci fosse una funzione che data la carta mi dà il valore è figo ci siamo muovati semplicemente a confrontare i valori non c'era questa funzione allora abbiamo dovuto faticotamente andare con una serie di if non una ma due volte allora questo ci fa subito dire che ci sarà un meccanismo ci dovrà essere un meccanismo ci dobbiamo imparare un meccanismo per definirci delle funzioni nostre in python python non sa cos'è la briscola noi si possiamo tranquillamente definirci una funzione questo impariamo a farlo tra un paio di settimane che si chiama valore di e fa quel conto e quindi tutte le volte che abbiamo bisogno di fare quel conto anziché fare copia e incolla dei valori e correggerli chiamiamo quella funzione che non sarà diverso da chiamare la funzione max o la funzione radice quadrata semplicemente quella funzione me la sono scritta io e ci aiuta a implementare primo a fare meno errori di copia e incolla avere programmi più compatti ma soprattutto a programmare a un livello più vicino a quello cui pensiamo perché noi l'abbiamo pensata così poi mi hanno detto ci siamo guardati in faccia bagno di realtà questa funzione non esiste e allora me lo devo calcolare in qualche modo quando impareremo a usare funzioni diremo ok questa funzione non esiste me la creo a parte me la implemento la testo la verifico una volta che c'è la uso una volta che l'ho fatta la uso e il mio codice chiaramente si riduce quindi questo è uno spoiler di questi blocchi di programma ripetuti puzzano sempre un po' dicono magari c'è un modo migliore di fare le cose e c'è basta impararlo dimmi questa funzione in realtà l'ho commentata perché non esiste non l'abbiamo usata io sono scritta ma non ho mai fatto run se no avrei avuto un errore l'ho usata come diciamo così passo del mio ragionamento e poi ho detto vabbè valore di carta 1 non c'è questa funzione allora calcoliamo una variabile punti 1 che sarebbe il valore numerico che quella funzione ipotetica potrebbe restituire se esistesse potrebbe calcolare se esistesse e me lo calcolo a mano quindi questo che stiamo facendo di farmi riportare sopra giustamente e lo scriviamo l'idea è di fare questo quindi calcolo punti 1 e punti 2 che sarebbero i valori delle carte questo è un modo che abbiamo visto funziona c'era però prima un suggerimento da quel lato di dire ma perché non sfruttiamo meglio questo cioè noi sappiamo che valore 1 e valore 2 sono di sicuro uno di quello qui le abbiamo messe in ordine diciamo così del mazzo ma se noi le mettessimo in ordine dalla più sfortunata a quella che ha più punti in ordine di punteggio ci potrebbe aiutare beh ci potrebbe aiutare perché fatemelo modificare sotto metto il 2 il 4 il 5 6 7 fante donna re 3 e asso queste sono le stesse identiche a prima solo in un ordine diverso cosa ha cambiato per ora? niente però sono costruite in modo che se un simbolo un valore viene dopo nella stringa vince su quello che viene prima giusto? allora l'idea è questa li metto in ordine di valore crescente poi quando ho le due carte vado a vedere senti ma la prima è un 4 dove si trova? beh il 4 si trova poverino sfigato alla seconda posizione l'altro è un jack dove si trova il jack? ah più avanti e quindi vince il jack quindi tutto questo lavoro che abbiamo fatto e funziona qua è ovviamente questa parte qui che siamo nel caso 4 tutta questa parte qua adesso lo scrivo sotto come commento che dovrei essere sotto questa if qua no? lo indentiamo lo giusto sì caso 4 alternativo se i simboli nella stringa valori sono riportati in ordine di valore crescente funziona solo in questo caso allora posso scrivere però lo scrivo a parole e poi lo scriviamo in Python se la posizione di carta 1 di 0 in valori viene dopo alla posizione di carta 2 di 0 in valori allora vince carta 1 cioè prendo la carta il valore lo cerco nella stringa vedo dov'è trovo la sua posizione l'indice faccio la stessa cosa con l'altra carta verranno due numeri diversi in base all'ipotese di prima che le carte sono diverse sappiamo già che i semi sono uguali quindi quello che sta nella posizione maggiore vince allora dato un simbolo un carattere che sta in una stringa e ho verificato prima che ci sta come faccio a trovare dov'è? index o find quindi la posizione di carta 1 nei valori come si scrive if valori punto index di allora la funzione index cosa dice? leggiamo la documentazione data una stringa chiamo la funzione index restituisce l'indice più basso all'interno di s il minore il minimo in cui la sottostringa sub che sarà per noi il carattere che rappresenta il valore sia trovata vabbè poi dopo c'è start end se per caso vuoi ricercare non all'interno dell'intera stringa valori ma di un pezzettino quindi per noi non abbiamo start end abbiamo semplicemente da cercare un carattere dentro una stringa e perché parla dell'indice più basso ma perché col carattere potrebbe comparire più volte quindi lui mi trova l'indice della prima in italiano direi l'indice della prima occorrenza qui lo scrivo nel modo più complicato ma perché devono essere più generali quindi lo posso scrivere così index carta 1 di 0 lui disse attenzione che quando la sottostringa non viene trovata genera un errore ma qui siamo sicuri che la trova perché abbiamo controllato prima che c'è siamo sicuri che ci sia dobbiamo solo sapere dove quindi questo index nel caso di un 2 mi restituirà 0 perché il 2 è nella posizione 0 della stringa nel caso di un jack mi restituirà non lo so fatemi contare 0 1 2 3 4 5 se faccio l'indice di valori su 5 su jack dovrebbe darmi 5 ma io non mi fido e lo controllo fatemi definire questa variabile qua valori punto index di 3 di 2 index scritto fa 0 il jack fa 5 il 3 fa 8 la carta più alta è l'asso che vale 9 perché questa stringa ha ovviamente 10 caratteri quindi l'idea era la stessa di prima converto il simbolo della carta che ha una sequenza strana in un valore numerico crescente e poi confronto questi valori numerici prima in ciò che abbiamo fatto prima il valore numerico lo prendevamo calcolando il punteggio che quella carta mi darà ai fini del gioco che andava bene era un po' scomodo da calcolare poi però c'erano gli zeri che ci complicavano la vita quindi mi creavano un sottoproblema da risolvere e va bene l'abbiamo risolto nel secondo caso il valore intero numero numerico da confrontare è una cosa totalmente artificiale la posizione di un carattere di una stringa ma quella stringa l'ho costruita nell'ordine giusto e quindi mi dà ciò che mi serve quindi vado a vedere se valori 1 cioè l'indice della carta 1 all'interno dei valori è maggiore quindi viene dopo dell'indice della carta 2 all'interno dei valori allora carta 1 altrimenti carta 2 ed è finito cioè questa riga di codice questa istruzione sostituisce da qui in poi tutta questa parte qua ok ovviamente siamo solo nel caso 4 quello in cui i semi sono uguali gli altri casi precedenti visto che lavorano sui semi non sui valori tutto questo ragionamento qua non c'entra niente non si applica allora dico una cosa banale è chiaro che se ci viene in mente questo è meglio la fatichiamo di meno lavoriamo di meno se ci viene in mente di farlo in questo modo ma se non ci fosse venuto in mente di farlo in questo modo poco male dall'altra parte ci siamo arrivati qual è giusto? tutte e due no? quello che vi dicevo la prima volta sono tutte e due giusti non sempre c'è un modo breve per uscirne come questo non sempre c'è quando c'è non sempre lo vedo pazienza ne vedrò un altro ok? non preoccupiamoci l'importante è che l'altro in questo caso abbiamo avuto un'idea basata sui punteggi mannaggia al testo che io ho scritto con un po' di cattiveria apposta ho messo tutta questa parte sui punteggi che non serve a niente quasi per dire ma usa i punteggi per fare i confronti in realtà no abbiamo visto che è più scomodo usare i punteggi che non usare altro infatti il punteggio non serve a niente in questo programma qua poi quando facciamo partita di discola completa ci servirà per dire chi ha vinto sulla partita non sulla singola mano ma sulla singola mano è totalmente inutile quindi ci siamo fatti un pochino orientare da un'informazione che c'era sul testo che in questo caso era inutile o non era più comoda vediamo se è vero e poi abbiamo ancora una cosa da correggere vediamo se è vero che dicono la stessa cosa io adesso le ho lasciate entrambe quindi mi vedrò stampare due volte il risultato che speriamo sia corretto allora sempre briscolo a cuori vabbè se i semi sono diversi questo non interviene quindi se faccio un 2 di fiori con un 3 di picche continuo a vincere due di fiori come prima se invece sempre briscolo a cuori metto due semi uguali quindi il 2 di fiori e il 3 di fiori ad esempio facciamo come prima 6 di fiori 6 e il 3 il 3 numericamente più basso ma come valore maggiore entrambe le volte mi viene detto che il 3 di fiori vince vabbè ma questo ci aspettavamo speriamo che abbiamo fatto le cose giuste però anche qua dovremo fare i vari casi con due briscole 7 di cuori e jack di cuori vince il jack in entrambi i casi eccetera per evitare di testare del piccolo insieme di casi e non tutti quello che conviene fare è decidere magari a priori farsi già una tabellina come questa ok i casi da testare sono questi e tutte le volte che facciamo una modifica andiamo a testare di nuovo esattamente questo e ripetiamo i stessi test per vedere che il risultato sia corretto in tutti i casi perché se no magari uno ha corretto una parte e ne corregge una parte e ne ha rovinata un'altra però se non vai più a controllare la parte che prima funzionava adesso non funziona più viceversa quindi il verificare adesso non ci dedichiamo tanto tempo ma verificare se ogni volta tutti i casi che hai deciso funzionano esattamente nello stesso modo è opportuno farlo è opportuno dedicare del tempo a farlo c'è ancora un punto che volevo evidenziarvi è sulla gestione dell'errore all'inizio cioè io se adesso per come ho scritto il programma io adesso se io inserisco stupidaggini lui mi stampa dei messaggi di errore seme non vai lo carta non vai ma poi va avanti a fare come se i dati fossero corretti e questa è colpa mia ovviamente sempre colpa mia mai do il computer perché io ho fatto stampa 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 ma poi dopo che ho stampato queste cose il programma va avanti e quindi anche se il seme non evaido la carta non evaido eccetera poi alla riga 40 ci arriva sempre dalla riga 40 in avanti a fare tutti i controlli su carta di 0 carta di 1 eccetera in questo caso questo esempio di prima mi è andata bene perché ho stampato una carta a caso ma se io mettessi che ne so una briscola sbagliata ma poi una carta solamente di un carattere e l'altra carta di 3 caratteri mi dà poi degli errori ad esempio index out of range perché la carta me lo dice che la carta 1 non è valida ma poi la usa e cerca di accedere al carattere carta di 1 cioè il secondo che sarebbe il seme ma non l'ho messo perché quindi non serve a molto stampare un messaggio di errore se poi il programma va avanti lo stesso ok allora per questo ci sono due modi uno è un po' più brutale l'altro è un pochino più gentile e un altro ancora lo vedremo la settimana prossima quindi sono tre allora il modo più brutale è quello di dire se c'è un errore interrompo il programma cioè faccio in modo che se c'è questo errore non vado avanti come potrei fare potrei mettere un else e mettere tutto il resto del programma sotto questo else quindi se c'è questo errore faccio questo altrimenti vado avanti basta selezionare tutto indentarlo di un salto però poi dopo c'è un altro controllo indentro di un altro salto un altro salto un altro salto quindi il programma principale sarà dentro un else di un else di un else di un else però viene eseguito solamente in quel caso allora questo è un po' brutto esteticamente ma anche come gestione del codice perché poi aggiungi una condizione all'inizio e devi spostarti tutto c'è un modo più brutale di uscire c'è una funzione che si chiama exit che interrompe brutalmente il programma cioè non va avanti esce chiude il programma questo è un modo stampo messo l'errore e si ferma in realtà ci sono due funzioni una si chiama exit l'altra si chiama sys.exit ma ai nostri fini sono molto simili quindi cosa succede che se io come seme di briscola metto t che non esiste poi mettessi anche delle carte giuste seme della briscola non vado e basta non va neanche controllare la seconda carta non va interrompe il programma è brutale ma mi permette di non arrivare alla parte di calcolo con dei valori sbagliati e questa è una possibilità dicevo un po' brutale quella un po' più diciamo così morbida perché in questo caso faccio exit il programma termina esce e qui non posso più fare nulla per recuperare o per correggere la cosa giusta da fare sarebbe dire all'utente guarda che seme è sbagliato provare a inserirlo questo lo facciamo abbiamo cominciato a vedere da lunedì i cicli inserendo la lettura del dato e il suo controllo all'interno di un ciclo che si ripete finché il dato non è valido e questo è il modo più corretto di farlo dicevo il terzo modo che però cominciamo a usare la settimana prossima quando siamo siamo così ben ginnici sui cicli ci sarebbe un terzo modo che è quello di dire stampo un messaggio di errore e mi ricordo che che l'ho stampato e quindi poi faccio cose cioè come se dicessi qua anziché fare un exit di brutto mi ricordo che c'è stato un messaggio di errore e metto a vera una variabile al posto di fare exit ad esempio variabile che inizialmente imposterò a un valore neutro falso ma questo è un tipico variabile booleana che mi indica se una cosa mi permette di ricordarmi a distanza se una cosa è successo oppure no come funziona questo codice in gergo lo chiamiamo flag c'è una bandierina che può essere alzata o abbassata io ho questa variabile che metto a falso se qua sotto alla riga 40 è rotti questa variabile è ancora falso vuol dire che non c'è stato nessun problema i dati erano tutti validi se almeno uno dei dati non era valido oltre che aver stampato messaggi d'errore ho alzato la bandierina e quindi qua sotto posso tranquillamente vedere se c'è stato un errore andando a testare la variabile errore questa variabile riassume se è vera il fatto che c'è stato il primo o il secondo o il terzo o il quarto errore uno qualunque se è falsa mi garantisce che nessun errore sia verificato ok è come se tu prendi un bambino che ha le mani pulite lo controlli prima gli lavi le mani e poi lo chiudi in una stanza con tante marmellate nutella eccetera poi dopo un po' riapri la stanza vai a vedere e dice se hai le mani pulite sono sicuro che non ha toccato nulla se hai toccato qualcosa sono sicuro che le mani non sono più pulite poi non so in che ordine quale come dove ma la marmellata l'ha toccata e quindi questo flag è la marmellata a questo punto posso dire volendo qua esco dal programma oppure ripeto oppure stampo un messaggio però ho un punto unico e non mi obbliga ad andare a ogni volta che controllo qualcosa a mettere dell'aggiunta oppure qua veramente stampo posso dire if not air tutto il programma quindi da qua in avanti rientro di uno metto tutto il nostro programma sotto questo se non c'è stato un errore ma lo faccio una volta sola non faccio 6 rientri quindi questo è un modo di teletrasportare un'informazione che conosco qui a un momento più tardi quando mi serve quella informazione per poter agire non voglio barra posso agire subito mi ricordo che una certa cosa è successa e più avanti agirò di conseguenza ok va bene intervallo intervallo grazie a tutti